Ciao a tutti, la ricetta che vi faccio vedere oggi è una ricetta semplice, nel senso che è quella della classica frittata alle patate, però diciamo che è più ispirata alla tortillas spagnola, quella che viene servita come tapas, perché diciamo che ormai qualche anno fa purtroppo sono andata in Spagna con uno scambio culturale, sono stata due settimane a casa di una famiglia spagnola e la mamma era molto molto brava a fare questa frittata, quindi diciamo sono riuscita un po' a capire i suoi segreti e quindi insomma oggi ve la faccio vedere, andiamo a vedere come si fa? Allora, prima di farvi vedere il procedimento vi do gli ingredienti per tre persone, come al solito. Allora, vi servono, o perlomeno, io uso il curry, il sale per salare sia le uova che le patate ovviamente, una cipolla di cui però utilizzo solamente metà, due patate di medie dimensioni oppure una patata grossa, io avevo a casa quelle di col fiorito per cui ne ho approfittato, però comunque la frittata viene benissimo anche con le patate che compriamo al supermercato e che sono italiane ma di cui non è specificata la provenienza. Poi 5 uova e diciamo che qui il rapporto uova patate dipende un po' da come la volete, se la volete più patatosa o più uovosa, nel senso che se magari vi piace sentire di più la patata potete anche un pochino aumentare le dosi, se invece non la volete sentire poco aumentate le uova, diminuite le patate. Poi ho l'ex vergine d'oliva, il pane perché almeno per me pane e frittata sono le cose che vanno di pari passo a braccetto, però chiaramente è una cosa del tutto opzionale, vedete voi insomma. Dopodiché vabbè, un coltello, il pelo a patate, se siete capaci a tagliare le patate e a togliere la buccia delle patate anche senza il pelo a patate fate solamente col coltello, io mi si trovo più comodo, un tagliere e una padella antiaderente. Noi praticamente da più o meno poco dopo Natale siamo passati a queste padelle rivestite in ceramica che dovrebbero essere più, diciamo, sane rispetto alle padelle con il teflon che non è che faccia proprio benissimo, insomma. Poi una terrina in vetro e una forchetta per sbattere le uova e siccome io non sono capace a girare la frittata in volo utilizzo un piatto per girarla. Allora, per prima cosa io metto un po' d'olio nella padella e ci metto il curry. Allora, io il curry, probabilmente ve l'ho già detto, lo adoro, lo metterei davvero su tutto, per cui diciamo ci ho aggiunto un quantitativo in maniera tale che comunque il sapore si sentisse bene, insomma, nella frittata. Quindi voi seguite i vostri gusti se non vi piacciono, magari non vi piace il sapore tanto pronunciato, ne utilizzate meno, ovviamente. Comunque adesso non so se è una fissa mia, però l'accoppiata tra curry e patate è veramente molto molto buona. Io ti, per esempio, quando faccio le patate tipo in padella, semplicemente con l'olio semifritto, diciamo così, ci metto sempre un pizzichino di curry perché secondo me esalta un po' il sapore della patata, ecco. Poi prendo il tagliere, il coltello, la cipolla e taglio la taglia a metà. Poi nel frattempo metto la padella sul fuoco in modo che l'olio si scaldi. Poi praticamente taglio la cipolla a pezzettini e praticamente dopo aver distribuito l'olio su tutto il fondo della padella, metto le cipolle nella padella a far dorare. E mentre aspetto, prendo le patate, le pelo e le taglio a tocchetti. Allora, in genere io cerco sempre di fare dei pezzettini piccoli perché così impiegano meno a cuocersi. Poi metto un po' d'acqua nella padella e ci aggiungo le patate. Le mescono un pochino e le lascio cuocere. Chiaramente il tempo che impiegano a cuocere dipende un po' dalle dimensioni dei tocchetti. Io per quanto comunque potevo farle più piccoline, ci ho messo appunto un 15-20 minuti controllando sempre e mi raccomando che ci sia acqua in modo che non si bruciano né le patate né le cipolle. Quindi nel frattempo poi ho preso una terrina bella capiente e poi vedete perché. Praticamente ho rotto uno a uno le cinque uova. Poi ho aggiunto il sale, un pizzichino di carri anche qua, e ho sbattuto le uova. Passati questi 15-20 minuti ho controllato che le patate fossero cotte, le ho assolate e le ho versate nella terrina. Poi ho rimesso la padella sul fuoco e praticamente ho mescolato uova e patate nella terrina. Ecco per chi adesso capite che vi ha detto se era una terrina insomma bella capiente. Dunque poi praticamente una volta che ho mescolato tutto per bene rimetto le uova con le patate nella padella che è ormai bella calda e in primo momento giro solo qui in mestolo. Poi dopo un attimino mi fermo e quando vedo che praticamente i bordi esterni della frittata fanno la crosticina e quando vedo che si muove la padella avanti e indietro la frittata si sposta allora la giro. Come ho detto io ho proprio il terrore di girarla in volo perché magari mi va a finire tutto sulla cappa. Quindi praticamente mi aiuto con un piatto che deve avere un diametro diciamo superiore rispetto a quello della padella perché praticamente faccio così. Allora sposto la padella dal fuoco, metto il piatto sopra la padella poi con delle presine perché chiaramente la padella è bella calda, bella bollente, giro la giro praticamente la padella, poi la rimetto sul fuoco e ci metto sopra la frittata. In questo modo praticamente si cuoce poi anche la parte sotto che magari non era ancora perfettamente cotta. In genere un paio di minuti e la frittata è pronta. Io semplicemente per servirla la rimetto anche nel piatto che ho utilizzato per girarla. Da questo punto praticamente tagliate un pezzetto e ve la papate con il pezzo di pane se volete. Comunque adesso vi assicuro che il curry secondo me dà un tocco in più diciamo che vi facizza una banalissima frittata alle patate. Allora sempre spero che la ricetta vi sia piaciuta e volevo solamente aggiungere una cosa che se invece volete farla tipo la frittata che vedete magari spesso quando si fanno gli aperitivi cioè di solito trovo spesso o la frittata con le patate o la frittata con le zucchine quando si va a fare l'aperitivo no? Allora in quel caso vi basta semplicemente invece che cuocerla in padella la cucete al forno e quindi viene fuori proprio tipo quella d'aperitivo e quindi magari invece che un diciamo un piatto da mangiare semplicemente a cena potete utilizzarla se magari preparate un aperitivo. E niente questa è l'ultima cosa che dovevo dirvi e un bacione e alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti!